siamo super pijamini siamo super pijamini non mi toccare non mi toccare non mi toccare no no siamo super pijamini io ne ho un regalo per Alex ecco qua è un monopattino sei contento o no? sei contento o no? no? cosa vuoi? macchina? tua macchina un jip fuori strada? no gelato gelato vuole gelato ma che lungo è? mamma mia com'è lungo c'è un cos'altro Alex ancora? cosa abbiamo? per vedere? la scatola e la butta no tu non lo butti niente perché già sono venuti due volte i vicini dicono no ma chi qualcuno butta a uno abbiamo spagato il vetro della macchina no Alex abbiamo spagato il vetro della macchina hai avuto la polizia ho detto qui non hai avuto quello Alex allora abbiamo toccato? allora butti questo no quello butti sì adesso rompo la macchina nooo pure con questo fatto mamma mia Alex sei casinista come si fa? come si fa Alex? aspetta qui vedo qualcosa ecco così ecco così ecco così pa-bam! hai visto che sono fissato da sola? ah qui tu come siete? aspetta qui? come si fa? come si fa? come si fa? aspetta? un posto sì, un posto aspetta prima devi vedere che questo qui ecco lo vedi qui ecco lo dai infilo ecco lo vedi? questo vedete qua? deve entrare così nel buco vai Alex vai 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 piano oh 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 ecco il buonopatino è quasi pronto brim 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 quello è per questo? cosa serve? arriva qua per amministarsi ah dovevi non tacco oh questo che vuoi Alex? è una cosa quando vai e ti puoi tornare ah è un freno vedi che non va più sì vedo 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 ti monto allora questa che cos'è? io la devo prima ah qui per avete capito ragazzi qui ecco si smonta così potete prendere e poter portare con voi in viaggio ma la devo lavare che lavare devi fare? la lavo la lavi no no la devo lavare così è più bella ecco io qui l'ho fissato la lavo aspetta lavi lavi tu lavi io qui fisso così ecco c'è qua prendiamo forte oh qui anche c'è lunga ragazzi guardate non ci può ancora fare questi monti ah eccolo guardate qua ecco 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 prima prima la devo più grandi più piccoli non ti ascolta nessuno non ti ascolta nessuno sì certo anche mio papà come io non sono tuo papà oh ma che dici eh come tu mi dice Alex una volta è venuto da scuola e quando pensa oh ma non sei mio papà come non sono tuo papà ehi cuccio dai abbiamo fatto la devo lavare alla fine alla fine alla fine bella bella monopattina a me piace guardate i bambini guardiamo qua monopattina i super picciami c'è Geko eeeh gatta voi tieni 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 tu fai e adesso la boffetta c'è monopattina a freno eh si gira si smonta vedete come si diventa bella da 5 anni in su dalla ditta smoddy bella 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 posso portare eccoci qua 50 velchili perciò per me ci vogliono due No, per me ci vogliono pure tre monopattini così, io peso 120 kg, mamma mia, grosso scimetto, grosso scimetto, eccoci qua, 5 anni in su, 5 anni in su, può stare anch'io, sì, solo che io peso troppo, ebbè, 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 allora a me piace, Alex hai lavato tutto? No, sì, ho lavato, adesso la monto, bello, bello, ragazzi, se volete acquistare, noi vi lasceremo di sotto un link dove si può acquistare, dove abbiamo acquistato noi, ok, avrete anche un po' di sconto, eccoci, Alex, ma la devo montare anche sotto, esatto, cosa c'è sotto, facciamo vedere, bimbi, cosa c'è sotto, facciamo vedere, hai montato, facciamo vedere, no, eccoci qua, di sotto non c'è niente, ma devo montare così si distrugge, dai distrugge, dai distrugge tutto, Alex, distruttore, ma non la distruggo, io la monto, Alex, ma lo portiamo con noi in Parigi questa, sì, ok, andiamo in Parigi con monopattino, no, ma c'è valigia, avete visto che valigia, Alex, c'è, una grande valigia, sempre con super pigemini, sì, con questa valigia, Alex, fa come un monopattino, come una slitta, che cos'è, eh, Alex, che c'è sulla testa, cosa hai mangiato, cioccolatini, ah, slime, hai giocato, hai giocato con slime, basta chiudere, Alex, allora, Alex, il nostro monopattino pronto, noi siamo pronti per partire, questo è per cosa? Ah, questo quando, quando voi smontate tutto, dai, no, 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 questo di qua, e questo per fissare questi tubetti qua, eccoci qua, bim, bim, che non vi danno fastidio, Alex, intanto, tu sei pronto per partire? Mi diamo le maschere, dammi la mia maschera, ah, mi dammi la maschera, dai, ecco, abbiamo messo le maschere, e siamo pronti per partire, adesso, carichiamo il nostro monopattino e andiamo via, ciao ragazzi, ciao!